ciao a tutti e bentornati su impara da vinci risolva torniamo a parlare di metadati quindi campi di informazione associati alle singole clip assorgente e in particolare parleremo di metadati che utilizzano altri metadati come variabili in modo tale da creare dei campi totalmente personalizzati adesso detta così può sembrare complicato e priva di senso in realtà è molto semplice e può davvero essere molto utile vediamolo insieme sono sulla media page queste sono le clip che ho importato con codec e formato differente ogni clip ha il suo nome il suo clip name dal nome però non ho informazioni particolari ecco vorrei rendere il nome leggibile e che contenga delle informazioni in particolare a me interessa ad esempio prendiamo questa clip portarmi dietro nel nome il codec e il bit delta cioè la profondità di bit con la quale la clip è stata creata quindi devo crearmi una metadata in questo caso il clip name che contiene delle variabili e queste variabili sono degli altri metadati quindi per farlo seleziono tutte le mie clip faccio tasto destro vado a cliccare su clip attributes vado nella sezione name e vedete che qui troviamo il clip name cancello il contenuto del clip name e premo il tasto percentuale quando clicco il tasto percentuale resolve va in modalità metadata variable cioè ti va a cercare delle variabili e le variabili sono i nomi di altri metadata quindi adesso come primo valore io vorrei mettere il nome della clip sorgente quindi vado a scrivere source e vedete che lui suggerisce con la parola source il metadata che si chiama source name metto source name e adesso vedete che viene selezionato metto un separatore magari faccio spazio e poi metto una barra verticale spazio e vado a selezionare un'altra variabile quindi sempre percentuale adesso devo scegliere il codec video quindi scrivo video e verrà fuori video codec perché l'unica variabile che ho che inizia con la parola video è il video codec metto video codec poi altro spazio quindi altro separatore altro spazio chiaramente adesso io utilizzo una barra verticale voi potete utilizzare quello che volete un punto un meno quello che volete andiamo a premere ancora il nostro percentuale posso viaggiare all'interno delle variabili semplicemente con i tasti freccia sopra e sotto oppure nel mio caso forse mi conviene ancora visto che so qual è il metadata che voglio andare a cercare vado a scrivere bit depth ok quindi adesso io costruisco il clip name basato prima sul nome della clip sorgente sul video codec e quindi sul bit depth faccio ok adesso magari ingrandiamo lo zoom delle singole clip per vedere tutto il dettaglio e vedete che avrò il nome della clip sorgente il codec delle singole clip e la profondità di bit della clip in questione facciamo un ctrl z quindi ritorniamo alla nomenclatura originale andiamo sulla edit page vediamo un altro modo per poter utilizzare questa combinazione di metadati andiamo a selezionare workspace data burning i data burning li abbiamo già visti in tutorial dedicato sono tutte informazioni che vanno in overlay sulla clip o sul progetto in questo caso adesso sto lavorando a livello di progetto vado a prendere un custom text e anche qui metto la mia percentuale vado a scegliere il video codec qui mettiamo un meno come separatore questa volta e andiamo sempre a mettere il nostro bit depth ok adesso chiudiamo il data burning e vedete che adesso sulle singole clip verrà indicato qual è il codec e qual è il bit depth della clip in esame così mi posso fare un'idea esattamente di che tipologia di clip ho a disposizione e questo mi può facilitare le operazioni ad esempio di post produzione andiamo a togliere il data burning andiamo disabilitare il custom text e andiamo a vederne un'altra applicazione andiamo su project settings andiamo su general option andiamo nella sezione color e la prima voce è un check che mi permette di abilitare il naming delle still che creo in color page utilizzando una nomenclatura personalizzata quindi attivo automaticamente label gallery stills using e vado a selezionare custom label using tags e qui posso andare a dire guarda metti il video codec e magari sempre il meno come separatore andiamo a prendere il bitrate ok video codec e bitrate faccio save adesso vado nella color page masso il gain alzo un po' la satta qui vado a farmi una still e nelle still potete notare che c'è il meno ma non compare nient'altro avevo messo il bitrate ma il bitrate è un'informazione che non è disponibile nei metadati quindi se vado sulla mia clip vado a vedere se c'è l'informazione relativa al bitrate vedete vado a cercare codec bitrate e qui non compare al posto del bitrate magari possiamo mettere le informazioni sugli audio channel quindi posso andare a scegliere audio channel perfetto ora faccio save in color vado a fare un'altra still e vedete che adesso qui compare anche l'informazione sull'audio channel l'ultima applicazione che vediamo sempre di questa tipologia di metadati è sulla deliver page vado in file vado a esportare le individual clips nel custom name posso andare a esportare il nome del codec video sulla singola clip e magari anche il source name quindi quando andrò ad esportare le individual clips io mi porterò dietro come nome il video codec come primo parametro e come secondo il nome della clip sorgente questo utilizzo dei metadati ti può permettere di organizzare ancora meglio la leggibilità del tuo progetto partendo dal clip name quindi dal nome delle clip passando dalle still quindi da tutta la galleria che mi creo in color passando dai data burn in quindi dagli overlay sul viewer fino alla deliver bene se hai delle domande in merito a questo utilizzo dei metadati ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo per il prossimo tutorial all'interno di impara da vinci resolve